1, 2, 3, 4 5, 4, 3, 2, 1, 0, interessi 0 per messi analoghi ma non per religioni e guerra tra angeli e diavoli Alcuni per evolvere schemi enigmandoli ed altri per risolvere i problemi evitandoli Radiografia, più guardo il mio fisico più mi ci identifico e meno voglio andare via Sei polizia tu F-E-R-M-O, dritto da P-A-L-E-R-M-O Basta fare mente locale nel locale dove sei così virile che vieni prima di entrare Pensi che beva la storia del tutto a posto, certo che la bevo ma poi me la sbocco addosso Questo è Johnny King King che l'ha un F-E-R-M-O Questo è Johnny King King che l'ha un flow che è un gioiello russo bling bling brella Grazie a tutti